La prima cosa che facciamo tutti è tiri giù il finestrino, metti la testa fuori per vedere quanta nebbia c'è Rimetti la testa dentro e dici Il volante? Dove c'è andato il volante? Col finestrino giù è entrata la nebbia Allora Rallenti e segui anche tu le luci di quello che è primo che ha acceso il farro rosso a 300 metri di distanza Perché tanto dice che è senso prima o poi mi accorgo di quando devo uscire Questa strada la faccio tutti i giorni Una volta per mezz'ora siamo andati a 30 all'ora Mi sono distratto a prendere una sigaretta e sedile a fianco Quello davanti a me ha frenato di colpo Io involontariamente boom nel sedere Scendo gli busso la finestrino Ma che cacchio vai? Freni di colpo? Lui si dice e dice ma che cazzo vuoi? Siamo nel mio box